Torna in scena la rassegna organizzata dall'Associazione Demetra, appuntamento per il 19 marzo alle 21. Che cosa andrà in scena? Andrà in scena un lavoro comico che sta raccogliendo molti consensi in giro per la Sicilia, sta vincendo dei festival e quindi per questo non l'abbiamo selezionato e si chiama Le sorprese del divorzio di Marse Bisson, due autori francesi del Vaudetville, del classico teatro di Vaudetville, adattato in italiano con la regia di Isaia, che è una ragazza, una delle componenti della compagnia Liotro di Catania. Quindi una bella realtà che con oltre 40 anni di teatro, che viene per la prima volta a Gela e che porterà quindi questo lavoro che è molto frizzante perché parla di un menace familiare dove si inserirà una suocera e quindi insomma fino alla fine ci saranno delle buttade incredibili. In tempo di crisi dedicare qualche momento ad una risata è molto importante, ma ancora più importante è incentivare la cultura, voi l'avete fatto fondando questa associazione nuova. Sì, sicuramente. Noi infatti ci teniamo in particolar modo, proprio in questo momento così particolare, invitiamo proprio la gente a ritagliarsi quel piccolo spazio che non servirà sicuramente a poter in qualche modo lenire i problemi, ma sicuramente offriremo un piccolo ritaglio di dove ci saranno delle risate, una serata simpatica sicuramente. Rinnoviamo allora ancora una volta l'appuntamento, tutti gli amici che volessero venire a vedervi, come e dove possono trovarvi? Possono trovarci al Teatro Esquile il 19 di marzo, sabato, alle ore 21 con questa commedia che rientra nella rassegna Sabato Teatro, quindi venite a trovarci, ci sarà grande possibilità di posti, quindi pensiamo che anche fino all'ultima fila si vede bene, si sente bene, quindi venite a trascorrere due ore di spensieratezza. Sbigliettamento disponibile al botteghino fino all'ultimo momento? Certo, noi stiamo facendo una sorta di prevendita, però sarà disponibile fino all'ultimo momento, 10 euro l'ingresso, 5 euro il ridotto, quindi venite a trovarci. Ci sarà anche una piccola sorpresa con una degustazione di una cantina Quignones di Licata, quindi anche per questo motivo venite a gustarvi un buon vino.